Ci occupiamo di Pallamano, la Ogan Pescara riparte dalle sue certezze, confermato in blocco l'organico che il 6 giugno scorso ha centrato la promozione in Serie 2, anche se non mancheranno new entry per rinforzare l'organico. La guida tecnica è sempre quella di Michele Mastrangelo, al suo fianco lavorerà Tatiana Borisova, punto di riferimento anche dei settori giovanili e dell'attività scolastica. Per quel che riguarda il roster confermata la vecchia guardia pescarese, come detto Roberto Pieragostino e Francesco Rigante, 159 gol in due nelle 11 partite della passata stagione, assieme a Daniel Di Marco, Simone Falcone e al capitano Matteo Aldamonte. Con loro pressoché tutta la squadra protagonista del salto di categoria, dal portiere Valerio Tornincasa all'ala destra Alessandro Facchini fino al pivo Marco Ciarrocchi. Ci saranno anche Alessandro Loporcaro, Ludovico Ferri, Luca Ciaccio, Alessandro Sabatini e Simone Pellegrini, tutti fautori della conquista della 2. Solo un nome in uscita, quello di Davide Pellegrini, costretto per motivi professionali a lasciare Pescara.